La città di Napoli si mobilita ancora una volta per chiedere la pace in Ucraina e come un anno fa, nel giorno del secondo anniversario dell'invasione russa in territorio ucraino, Piazza Dante fa da eco per l'appello a interrompere un conflitto di brutale impatto sulle popolazioni che stanno vivendo sulla loro pelle una delle pagine più brutte e sanguinose della storia moderna. In piazza tra i tanti cittadini presenti anche le associazioni sul territorio campano in sostegno al popolo ucraino. Sì, oggi siamo qui per manifestare non due anni dall'aggressione, siamo a manifestare dieci anni della guerra in Ucraina e stiamo manifestando due anni di genocidio, genocidio quando stanno morendo due anni le persone civili. Crediamo sia necessario ricordarlo ancora che quello che succede è qualcosa di inaccettabile soprattutto in Europa perché va contro ogni tipo di principio che ha forgiato i valori europei e che forgia ancora oggi il nostro modo di vivere. Poche ore prima, sempre a Napoli, altro accorato appello alla pace, questa volta legata al terribile conflitto in Medio Oriente. In largo Berlin Guerre si tinne in occasione della giornata nazionale di mobilitazione per il cessato del fuoco in Palestina con la collaborazione di sindacati e associazioni del territorio, manifestazione che si è svolta in contemporanea con altre città italiane. Si chiede come dall'inizio dell'escalation di violenza nella striscia di Gaza maggiore concretezza dell'Unione Europea per porre fine al conflitto. Ai nostri microfoni Omar Suleiman, portavoce della comunità palestinese in Campania, è Nicola Ricci, segretario della CGL. Il martirio di decine di migliaia di persone che ormai stanno morendo non per i missili e le bombe israeliane, ma per fame, per sete, per mancanza di cure e per il freddo. Napoli aveva quest'obbligo e quest'obbligo morale e civile per dire stop alle armi, stop alla guerra e soprattutto bisogna firmare lo genocidio.